Gentili tra i spettacoli dei protagonisti, in compagnia di due massime espressività artistiche, artisti versatili, loro sono Luca e Paolo. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao, come stai? Ciao, eccoci. Allora, colpi di fortuna, non pensavo che un biglietto vincente avreste fatto i bagordi la notte, e poi che è successo? Poi abbiamo perso il biglietto, e succede, e quindi poi tutto il film lo passeremo a cercare questo biglietto. Non è che sarà stata la cresta di Amsi che ha fatto perdere i lumi a Luca? No, più che altro peggiora le mie condizioni mentali, però insomma alla fine riusciremo a ritrovarlo. Questo programma con Antonio Ricci andrà a buon fine o no? Chi lo sa, non lo so, è tutto ancora da definire, da dire, da pensare, da capire. La vita è piena di incognite. Vabbè, in ultimo, voi che siete da 15 anni fedeli al Biscione, no? È tutto finito. La prosa di essere finita, la decadenza di Berlusconi è tutto finito. Siamo in sintonia. È tutto finito. La decadenza di Berlusconi, voi che da 15 anni siete fedeli alla sua rete, come la commenta? La decadenza di Berlusconi, devo riprendermi, è tutto finito, è tutto finito, non c'è più speranza per niente. È proprio l'ora della pastiglia, sì, non c'è più speranza per niente. Tieni, guarda, di là. Mettiamo una gag cinematografica, ragazzi, la trasmissione si chiama I protagonisti. Speriamo di incontrarne un giorno di questi protagonisti perché finora... Quindi salutiamo, 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 addio. Addio ai protagonisti, ciao a tutti. Ciao, ragazzi. Pastiglia, vero? Ora pastiglia. Pastiglia, ciao. Ciao, Dara.